amici d'inno al cinema bentornati sul canale per una nuova recensione senza spoiler oggi venerdì 20 settembre arriva su sky and now tv con la sua prima di otto puntate la miniserie evento the penguin incredibile ma vero ma sono passati già quasi tre anni dall'uscita di the batman di matt reeves splendido cinecomic con protagonista robert pattinson ancora più incredibile mancano ancora due anni praticamente all'uscita del suo sequel ma appunto nella giornata di oggi la warner la hbo ci deliziano comunque ci rendono l'attesa meno estenuante per il sequel appunto del film con robert pattinson appunto con questa miniserie the penguin che vede si capisce fin dal titolo protagonista los cobb los world cobb perché questo è il cognome ufficiale del personaggio nell'universo di matt reeves interpretato sotto un make up da applausi a scena aperta da colin farrell progetto attesissimo sia in nome dell'amore di the batman da parte degli appassionati sia perché c'è voglia di continuare a esplorare questo universo narrativo che molto ha dato a noi appassionati senza contare il fatto che i trailer di questa miniserie sono stati veramente straordinari uno più bello dell'altro e che ci hanno o almeno a mi hanno invogliato sempre di più a vedere questo prodotto vi parlo diciamo da un punto di vista molto privilegiato visto che oggi è uscita su sky and now la prima puntata ma io nelle ultime due settimane da quando sono tornato a venezia ho avuto il piacere di vedere in anteprima ben cinque puntate delle otto componenti della miniserie ribadisco ovviamente non farò spoiler non entrerò nei dettagli della trama se non brevemente per il primo episodio che è già fuori embargo per non incappare in errori e e non disorientare il pubblico la prima puntata si sulle note meravigliose ormai iconiche del tema di the batman di michael giacchino una musica che abbiamo imparato ad amare che ci ammali e ci seduce che ci dice subito siamo tornati a gotham city a una gotham city ovviamente devastata dal dall'attentato dell'enigmista interpretato da poldano e che ha lasciato sott'acqua come vediamo nel finale del film buona parte dei quartieri più poveri e in difficoltà della città e non solo e sempre il finale di the batman ci lasciava con un oswald cobb appunto intenta osservare fuori da delle finestre a vetri una città pronta per essere conquistata una volta messa in ginocchio da un altro super criminale queste erano le premesse del progetto mostrare l'ascesa al potere di oswald cobb la prima sensazione che ho avuto dopo pochi minuti dall'inizio della visione del primo episodio è stata sì di ritrovarmi grazie al cielo nella gotham di matt reeves ma allo stesso tempo di stare osservando una storia completamente diversa cerco di spiegarmi fin dal dall'uscita dei trailer di questa serie ho detto chiaro e tondo io più che un film di batman in queste immagini in questi dialoghi in questo tipo di di visuale di messa in scena e di storie vedo la grandezza da me sempre amata dai tempi della post adolescenza di un grande drama crime hb open penso a the wire penso ai soprano mi dava quelle vibes questo progetto e indovinate un po di questo si tratta non aspettatevi le dimensioni e le scale bigger than life di the batman che era molto radicato diciamo in una realtà molto gritti per quanto ovviamente surreale fumettosa ma aveva respiro epico le dimensioni di un grande blockbuster qua restiamo ben piantati con i piedi per terra anzi con i piedi per strada perché qui siamo davanti davvero a una grande serie crime hbo ancora prima di essere davanti a un bellissimo spin off per quanto parzialmente diverso nei toni e nell'impostazione di un grande film supereroistico avevo ragione come molti avevano inteso ma anche come alcuni autori avevano dichiarato prima di essere appunto un grande tassello di un universo espanso targato dc the penguin è una grande serie crime mi viene quasi da definirla in maniera anche un po superficiale i soprano a gotham city infatti la serie si basa su un grande protagonista nuovamente colin farrell nonostante in queste ultime settimane si sia lamentato si sia un po pianto addosso per la disperazione la frustrazione legata al dovere indossare un make up molto impegnativo si dedica anima e corpo al personaggio al progetto ed è strepitoso nel riprendere il ruolo del buon oswald veramente è la colonna portante di tutto il progetto e il suo protagonista diciamo che in the batman era poco più di un neanche villain ma una sorta di danno collaterale e ostacolo collaterale per the batman per batman mentre cercava di combattere la follia dell'enigmista viene approfondito viene umanizzato e diciamo gli viene dato un background molto intimo molto sofferto e mi sento di dire anche profondo e questo protagonista ovviamente si trova al centro di un grande intrigo criminale che coinvolge le principali famiglie criminali di gotham city quelle diciamo che conosciamo tutti se siamo anche dei lettori di fumetti in primis ovviamente i falcone e i maroni c'è un cast straordinario intorno a colin farrell fatto di grandi grandissimi caratteristiche michael kelly c'è la candidata all'oscar anche se molti anni fa per un film bellissimo che se non conoscete recuperatelo la casa di sabbia e nebbia con ben kingsley shoré agda slu alcuni di voi la ricorderanno in x mentre io appunto la ricordo per quel ruolo ma anche per una sua partecipazione a una mia serie cult che è 24 24 c'è teo rossi di sun sov anarchy che ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa a venezia ci fu un siparietto molto divertente mi disse che assomigliava al suo migliore amico e non so perché ma per un po' siamo rimasti anche in contatto su instagram c'è il leggendario clancy brown che appunto interpreta salvatore maroni però prima ho citato colin farrell come colonna portante della serie e non potevamo aspettarci diversamente segnalo anche il giovane renzi felis che già dalla prima puntata è una sorta di giovane protetto da oswald dicevo colin farrell è sicuramente la colonna portante di questa serie ma da un certo punto di vista non è la sola e mi sento di dire che il cuore pulsante o quantomeno l'anima più selvaggia più animale più feroce della serie è incarnata dalla non so come sottolinearlo abbastanza splendida agghiacciante spaventosa sexy talentuosa meravigliosa christine milioti molti di voi la conoscono per our meteor mother perdonatemi o appassionati di quella sitcom io detesto our meteor mother sono riuscito a fatica a concludere la prima stagione all'epoca dell'uscita perché pensate comprai a scatola chiusa i dvd americani senza fare una risata che fosse una io l'ho conosciuta più avanti grazie a quel delizioso film che trovate su prime video che era palm springs con andy senberg al suo fianco la sua sofia falcone che è un personaggio dal background molto ricco e sfaccettato fin dalla sua diciamo storia editoriale nei fumetti di sì è un personaggio incredibile è un personaggio straordinario è un personaggio sfaccettato profondo complesso agghiacciante ma allo stesso tempo assolutamente comprensibile nelle sue azioni straordinariamente feroci è veramente insieme a colin fare dal suo oscob uno dei motivi principali per cui questa serie voi proprio non potete perdervela vi dico subito preparatevi per quello che almeno per ora è il culmine della serie l'episodio 4 che appunto al suo personaggio è dedicato per quanto mi riguarda per ora l'episodio più bello di the penguin mi mancano appunto da vedere tre episodi non so se riuscirò a vederli in anteprima ma io già così vi dico che sono veramente sulla luna dalla felicità tutto quello che volevo in the penguin l'ho trovato non vedo l'ora di rivederli anche settimanalmente gli episodi perché sono anche molto densi di personaggi di narrazione anche di piccoli dettagli ecco l'unico consiglio che mi sento di dare non aspettatevi di vedere the batman in televisione le dimensioni la scale come dicevo prima l'approccio narrativo l'approccio ai personaggi è molto più terra terra e vi dico non è un difetto non consideratelo un difetto anzi abbracciatelo come grande pregio a dimostrazione che matt reeves ha creato un universo una gotham city così ricca e variegata che c'è spazio veramente per anche diversi tipi di narrazione su diversi formati e media questa è una grande serie hbo ancora prima di essere un bellissimo spin off di the batman con al centro uno anzi due personaggi straordinari sono già qui a chiedermi quali saranno le conseguenze per the batman 2 per l'universo appunto espanso di the batman di questa serie io spero che christine miglioti e la sua sofia abbiano un futuro radioso in questo universo ma devo ancora vedere come andrà a finire questa storia non vedo l'ora di farlo e non vedo anche l'ora di conoscere la vostra opinione su questa straordinaria serie che ripeto nelle prossime settimane rivedrò perché è veramente un mondo da esplorare un mondo che chiudo con un'ultima considerazione è poco fumettoso nell'impostazione ma che comunque contiene diversi easter egg anche ogni tanto piccoli e più nascosti della mitologia diciamo batmaniana fumettistica quindi ce n'è veramente per tutti i gusti per gli appassionati di fumetti per gli appassionati di the batman e dei cinecomic in generale ma anche appunto dei grandi appassionati di serie tv o comunque di narrativa crime in quanto tale io credo che questa serie sotto molti punti di vista sia godibile tanto dagli appassionati di the batman quanto da un pubblico occasionale che se lo trova davanti e ci clicca sopra ultima nota mi ero dimenticato c'è questa notizia ormai di casting uscita che un po mi fa rammaricare in alcuni flashback in alcune sequenze ambientate prima di the batman torna il calmine falcone in the batman interpretato da john turturro il mitico attore americano non ha ripreso il ruolo non ne conosco i motivi non so se per motivi professionali o perché semplicemente non era interessato a tornare è sostituito da mark strong altro attore straordinario che diciamo per quanto bizzarro nel dover diciamo accettare un volto che non sia quello di turturro nel ruolo che abbiamo imparato ad amare in the batman non fa diciamo non sfigura davanti alla legacy chiamiamola così di turturro the penguin è una serie eccezionale secondo me anche molto rivedibile rewatchabile come dicono i giovani perché è veramente pregna di tanta tanta roba di tanta storia di tanti personaggi di tanta mitologia la rivedrò in queste settimane appunto una puntata alla volta probabilmente con irene la mia ragazza fatemi sapere la vostra ne discuteremo ancora in futuro sono innocenti ma non troppo e da altre parti e speriamo a questo punto che i due anni che ci dividono sono i due anni tondi tondi che ci dividono da the batman 2 scorrano velocemente perché ogni volta che torno in questa gotham city ne voglio di più di più e ancora di più fatemi sapere la vostra per ora sulla prima puntata e su cosa ne pensate di questo nuovo prodotto tra l'altro uno dei due registi è craig zobel che aveva diretto la splendida mayor of east town omicidio a east town con kate winslet altra splendida miniserie giallo crime di hbo recuperata se non avete visto un vero capolavoro ripeto fatemi sapere la vostra sulla prima puntata nelle prossime settimane sulle successive nei commenti sotto a questo video ragazzi nel weekend forse inizio settimana arriva la nuova recensione che mi sono tenuto in serbo da venezia l'avete votata voi nelle storie instagram e sarà quella dedicata alla serie m il figlio del secolo altro prodotto che arriverà su sky and now tv all'inizio del 2025 dipende un po sono un po incasinato con i lavori non so se riesco a registrarla domani che è sabato altrimenti ripeto slitta a inizio settimana prossima la prossima settimana riprendiamo con innocenti ma non troppo recuperiamo la terza e parte del cinema di m night chamalan che ho lasciato in sospeso prima di partire per venezia ma prima della prossima settimana di tutte le novità sulla programmazione seguite i canali social miei e del canale perché probabilmente al 99 per cento come ho già detto ad altre parti dovreste tenervi libera se volete ovviamente domenica sera un paio d'ore con a portata due schermi per seguire qualcosa insieme a me guardate il calendario sarà facile capire di cosa sto parlando chiudo con i soliti consigli di fine video se non siete ancora iscritti all cinema iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati su quando i nostri nuovi contenuti arrivano su questi lidi per restare aggiornati e sempre pronti sulla programmazione di inno al cinema seguite la nostra pagina facebook il nostro profilo instagram e se volete anche il mio profilo privato michelinno 85 più siamo e meglio è quindi condividete inno al cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici grazie per aver seguito questa recensione senza spoiler del bellissimo the penguin da oggi con la prima puntata su sky e now tv ci vediamo con tutti i prossimi contenuti del canale un saluto e alla prossima